Mister Ballardini, quanta rabbia lascia questo risultato? Tanta, tanta perché il Genoa per il gioco, per le occasioni, credo non meritasse di perdere, ma se abbiamo perso c'è una ragione, perché abbiamo fatto degli errori che non ci stanno e quindi se tu fai degli errori così evidenti poi perdi la partita e quindi questo fa molto arrabbiare, ma dopo ci sono anche gli aspetti positivi. Questa squadra, l'ha detto lei, commette errori, ma gli aspetti positivi probabilmente intende le rimonte, il carattere e il gioco che mostra quando deve rimontare. Cosa serve per trovare continuità ai risultati? Ma serve attenzione dal primo istante, serve attenzione, serve determinazione, rabbia, serve quello dal primo momento all'ultimo momento della partita, invece noi ancora non abbiamo quella attenzione, quell'intensità, quell'aggressività nel gioco, nell'organizzazione che servono. Forse, anche visto dal campo, quello che è cambiato nel giorno del secondo tempo è stata la decisione nell'andare a caccia del risultato che forse... Ma va bene, non va bene. Va bene perché sei sotto di due gol e quindi hai cuore, hai voglia di rimettere così in gioco la partita e quindi ti spendi molto. Non va bene perché ti accendi che invece devi essere subito acceso. Martedì, subito in campo con lo Spezia, come affrontate questa vigilia un po' frenetica e come recuperate da una sfida così intensa come quella con il Torino? Ah beh, sarà necessario fare quello che ho detto poco fa, da squadra con attenzione, con intensità, con qualità, con furore perché quello... ma soprattutto l'attenzione e la determinazione, oltre alle qualità, ripeto, in fase difensiva e in fase offensiva, però se tu sei disattento gli avversari poi ti puniscono. Grazie, mister. A voi.